Ciao a tutti da Modrack, bentornati qui su Farming Simulator Emergency Come potete vedere sono stati aggiunti alcuni veicoli, alcune attrezzature utili sempre per le emergenze Lui è sempre il fulcro di tutta la mod che attiva tutte le varie missioni Tutto il resto è secondario e ci aiuterà per vari scenari Questo qui è interessante perché ha anche la possibilità, penso di attivare una tenda Non l'ho ancora provato ma quelli che utilizzeremo per il video di oggi sicuramente è questo man Con tanto di Interactive Control significa che possiamo aprire le sponde come vogliamo Ecco quando apri le sponde in questa mod devi un po' sparare poi a caso per chiuderle Perché non c'è più la X, dove si chiude? Non lo trovo più la X Niente non la trovo più la X, vedi? Non la trovo più Comunque abbiamo anche questo XUV, tutte queste mod vi ripeto le trovate nel mio Discord Vi lascio il link qui sotto in descrizione, entrate nella sezione Emergency e avete la possibilità insomma di scaricarle Questo qui non è comunque l'unico veicolo, a parte che si aprono anche le portiere, bello Proprio fatto veramente bene, anche gli interni, faccio vedere tra poco Entriamo dentro Guarda gli interni, tutto bello ben fatto, accendiamo Abbiamo anche, per dire la mappa, vedete? La mappa lì non è fake, è vera Abbiamo, cioè questa mod è pazzesca E in più, in più guardate Questo è anche disponibile su Farming Simulator normale, senza Emergency Premendo maiuscolo C vado ad attivare la retrocamera Attraverso maiuscolo C attivo la retrocamera Che mi serve Podrak la retrocamera? Facciamo finta che tu guidi su Farming con insomma il volante E vuoi vedere quando ti agganci in modo più realistico Tu utilizzi la retrocamera e in teoria con la retrocamera rie... in teoria appunto Poi se c'è Podrak ovvio che va tutto storto Ok, allora, cerchiamo di bilanciarci Ok, vediamo se riesco, vediamo Mi avvicino, mi avvicino, tac Sono arrivato, pum, vedi? Tac, mi sono agganciato Tra l'altro se fate, se non vado errato Alto C, ti si attiva questa camera Ti dice, dove lo vuoi? Al bottom right? In basso a destra? Oppure lo vuoi in basso? Forse a sinistra anche, sì, anche a sinistra volendo Vedete, potete decidere Voi dove mettere questa retrocamera Sinceramente a me piace dove stava, ovvero a destra Top right Qui potete anche cambiare il fove set Le dimensioni, troppo grande Mettiamo 200 per 125 Perfetto, vedete? È diventata minuscola lì Anche così non si vede un cavolo, però va bene E potete anche cambiare il fove Per esempio, è troppo stretto Mettete, o troppo largo Mettete 20 per dire Vedete? Vedete il gancio molto vicino Oppure se mettete un fove tipo 90 Lo vedete più lontano Che me ne pare di questa mod? Secondo me questa è fighissima E c'è anche C'è anche su console Penso Credo No, su console no Però penso sia sul mod hub Sul mod hub In teoria sul mod hub Facciamo così Maiuscolo sinistra Andiamo a disabilitare Abbiamo una missione Già in corso E secondo me Lui è il veicolo adatto Per questa missione Che si trova bella lì lontano Accendiamo i lampeggianti Vi faccio vedere Che abbiamo anche questo qui Che ci servirà E penso mi porto pure lui Così Ma sì Portiamoci due Ma che me frega Ma che me frega Tanto si sa che Quando si tratta di Perché sentiamo C'ha la sirena C'ha la sirena pure sto coso Ma vuoi? Ma di che cosa stiamo parlando? Sto coso c'ha pure le sirene Allora facciamo ctrl f Riduciamo Le dimensi Le distanze E andiamo nel luogo Dell'incidente Tra virgolette Perché non è un incidente Più Mi sembra che è caduto un albero Anche lui c'ha le sirene Vero? Oh no no Ok C'è già quello dietro Con le sirene Belle Perché Però anche lui Ce le ha volendo Però direi Oddio Come ho fatto ad aprire Quello sportello adesso Con z Bello Abbiamo scoperto una cosa nuova raga Non lo sapevo Quattro frecce Ok queste sono le quattro frecce Lo stai venendo? È bello distante il bro eh Però guardate gli interni di questo Ma sai che io devo utilizzare il volante Su farming simulator? Quando mi arriva il joystick Lo 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 metto Lo metto Ah qua abbiamo l'albero Ok Stiamo arrivando con il nostro bel mezzo Dove è l'albero? In teoria sarebbe caduto un albero in queste zone Ma Sembra di vedere alberi caduti Non mi sembra di vedere alberi caduti Signori C'è un problema Mi avete truffato Non vedo alberi caduti Ci hanno scammato raga Centrale Penso che la posizione che mi avete dato è sbagliata Andiamo nel nuovo punto di destinazione segnato Ok Adesso ho impostato Il nuovo punto Vediamo se È quello giusto? Questa foto è comunque carina È perché Ci permetterà Vabbè abbiamo il cassone Già di per sé per mettere la legna In più abbiamo quello posteriore Per conservarlo Può essere utile in diverse occasioni Non solo per Questa qui dell'albero Vediamo giusto dov'è Si accendo le sirene Siamo vicini agli incroci Quando si accende Ecco in Germania fanno così Quando c'è l'incendio Oddio aspetta Lo voglio dire che l'ho superato Sai che l'ho superato? Ma dov'è? La mappa L'ho perso Non lo trovo Non lo vedo più il punto verde Ah no eccolo là Ok l'ho visto L'ho visto Andiamo Sarà dentro la città? Oddio Che ci fa un cervo In mezzo alla strada? Comunque di questa mod Devo dire È carino tutto quanto Il fatto che Per dire hanno messo Il lampeggiante Le sirene Ma Non c'è la radio Ufficialmente dentro Quindi Insomma parlo Ma Non c'è la radio Come nei vigili del fuoco Allora dovrebbe essere qua a destra Ma dove è caduto? Ok ho capito Ho capito Ho trovato Ok questa volta si Non ci hanno scammato Bene Sono contento Non ci hanno scammato Perché effettivamente Un albero c'è Vediamo se Ok attiviamo la retrocamera Per sganciare Per sganciare Allora Direi di aprire Apriamo dietro pure Così se dobbiamo mettere Legna la mettiamo Sganciamo Perfetto Ok ci avviciniamo Poi con il nostro Pirubiru E quello lì si è bloccato Ok mettiamo un checkpoint Avvisando alla gente Di non venire magari Di qua Che stiamo lavorando Per favore Grazie Andiamo qua Attenzione Fate attenzione Rallentate Ok direi che bastano Questi con Ok Andiamo a recuperare Il collega Collega Che stai a fa Mannacce Ehi Esagerato Ehi Salvataggi in corso Proprio in questo momento Ok spegni Spegni Oh oddio Cosa What Che cosa ho premuto Come si chiude adesso Sta roba Ho premuto con n E come si chiude Ah ok Si apre sto Il coperchio Bellissimo Posso mettere i lacci Cioè volendo qua La legna la posso mettere La taglio a piccoli Pezzettini Bellissimo Bellissimo sto mezzo Allora tagliamo qua La legna Ah questo è un alberello Proprio Che carino Pumi Ciotta Dicono i coreani La tua forma è pazzesca Fratello Tagliamo in piccoli Tronchettini Perché tanto Dobbiamo metterlo dentro Dentro quel cassone Lì Aspetta Però Non mi fa tagliare In tutti i punti Tipo qua Mi fa tagliare Si Mi devo avvicinare Mi devo abbassare Ok Tagliamo Ok perfetto E ma se continuiamo così Raga dove sto finendo È stato finendo i pezzi Di legno Ehi Vorrei portare qualche pezzo di legno In base E che dia E che diavine Metà del troco è sparito Ah questi bug Ok tagliamo Tagliamo Vabbè Fa niente Fa niente Basta che qualcosa ci rimane Oh è che devo Dai Io ero Ero tutto felice Oggi faccio questa visione Che così E così E così Non devo comprare la legna Quando faccio il camino Ta 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 Oddio Pensavo fosse troppo pesante Per dire vedi Questo qua è talmente piccolo Che lo posso mettere qua dentro Eh dai fratello Questo lo diamo a mio fratello Sta legna La sua casa in montagna Questo forse Oh no no Piccolo abbastanza Oh ma Guarda che ti fai un cassone pieno Eh O sta legna Stai bene per tutto l'inverno Fidati bro Parola di podrack Poi se fai In falegnameria Ah e la vendi Meglio ancora Ci fai 100 euro 100 euro Lo usi per i black friday Dai che è iniziato Ah no Sembra piccolo Sto cosino Ma Porca miseria Guarda qui Wow Guarda li porta tutti lui Tu sei inutile Pazzesco Guarda li porta tutti lui Guarda Mi prendo pure qui Ma l'avresti mai detto Che in sto coso Ci stava un albero Io non ci avrei scommesso Un euro Ma che è quel cassone Ah che le auto piccole Guarda Sono il futuro Guarda Metti l'acce adesso Tac Guarda Futuro Questo è il futuro ragazzi Wow Bella Mi piace questa moda Mi è piaciuta Mi è piaciuta Adesso Oh Missione compiuta Sono un vero professionista 208 euro Mi hanno pagato Wow E in più mi venderò la legna Da bravo Venditore che sono Ok Allora Mi aggancio di qua Qua Guarda Aspetta ma fammi vedere una roba Ma posso entrare dentro io E vabbè ma si è chiuso tutto Mannaggia a voi Mannaggia Qua apro la porta Ma posso entrare E' difficile Sono un po' Grasso E quindi non riesco a entrare Devo dimagrire E non ci entro in quella porta Non ci entro nella porta raga Aiuto E aspetta un attimo Va bene tutto Ma questi coni adesso Oh E quindi Ho un'idea Mi è finita la missione Però si è dimenticato i coni Bro Penso Li metto qui dentro Li metto qui dentro Almeno non sono stati inutili Effettivamente I coni potrebbe Tipo dire Di trasportarli Oddio non ci Oh anche i coni Sono troppo Oddio Dove sono finiti i coni Ok se li hai messi dentro Ok perfetto Ho capito Se li hai messi in automatico dentro Bella questa mod Mi è piaciuta Oh chiudi 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 dietro Chiudi Se no escono i coni Adesso torniamo in base E abbiamo concluso la nostra missione Qui potarac Abbiamo tagliato l'albero Ritorniamo in base Passo Ok raga A posto Detto questo raga Io vi ricordo Che qui sotto In descrizione Trovate le mod Di questi Bellissimi mezzi Fatemi sapere Se vi piacciono Se li utilizzerete E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao